aia mannaggia chi mi ha sparato maui ti venisse una diarrea fulminante smettila di sparare porca miseria com'è che si chiamava Anna non me lo ricordo mai jasmine jasmine non so che cacchio fai una magia fai una magia col tappeto magico sparate non ce l'ho Aladdin non ce l'ho io vai finite no ce n'è ancora diarriva compaiono come funghi eh compaiono come funghi ci avranno qualche tecnologia aliena probabilmente bravo basta jasmine non so che cacchio fai una magia